Raga, allora adesso facciamo i pronosti, ci vediamo, cioè cerchiamo di capire chi ha fatto il regalo a chi. Ognuno ha le sue idee, ma nessuno è quella corretta. No, spai che voglio fare un video. Sei dei più paparazzotti di... Dai, scusatevi, voglio fare un video. Ah, vabbè, braccio di gruppo! Raga, buongiorno, allora sono sulla stazione che sto andando dalle mie amichette. Perché oggi c'è lo scambio dei regali. Diciamo, l'abbiamo fatto già un po' di tempo fa che ci scambiavamo i regali, nel senso a sorteggio, sceglievamo a chi dovevamo fare i regali. Quindi a me mi è capitata una persona che però non posso dirvi, perché poi funziona che lo cerchiamo di scoprire in quel momento. Quindi vediamo un po'. E mi sono un po' anticipata, perché c'è sempre un problema per fare il biglietto, perché la macchietta dei ticket è molto lenta. Quindi poi c'è il rischio che perdere il treno. E qui niente, ho messo questo maione. Questo è quello che ho preso da Shein. Molto carino e molto caldo. Poi c'ho il mio cappottino, la mia Michael Kors. Pantalone, questo verde. Sneakers. E niente. Ci aggiorniamo tra poco. No, 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 no. Aspettate a smettere, c'è un guasto, magari non lì siamo fermi, speriamo di stare qualche ragione, le ultime parole, ma ci hanno detto che c'è giorno, ma vediamo. Già la vedo, eccola. Entrata, si pensa che è entrata... Ciao! Come sei bella, amo! Anche tu, bellissima! Adoro! Mamma mia, ma quanta divinità! Amo, come li sono cresciti i capelli! Divina, mamma mia, oggi troppo divine, raga! Eccola, ho avvissata un'altra! Sara! Ciao! Divina! Ciao! Allora, mancano solo altre due per poi scopiarci i regalini! Ma questo è il mio più grande di tutti! Chi sa che ci sa! E' sempre grande, chi sa che ci sa! E' uno stasomiglio! Eccola, è arrivata anche lei, con un po' di ritardo! Raga, qua sono tutte malate, dalle mattina! Però sono stata un sacco di tempo con loro che mi portaggiano! No, ma quando ci scambiamo i regali? Non so! E' un po' di ritardo! E' un po' di ritardo! E' un po' di ritardo! Nooo! Vessione tascabile! Eccola! Adoro! Ciao! Ciao! Eccola! Eccola! Dove andiamo? Oh wow! Sei pazzesca con questo cielo! Pazzesco! Raga, allora, adesso facciamo i pronosti, ci vediamo! Cioè, cerchiamo di capire chi ha fatto il regalo a chi! Ognuno ha le sue idee, ma nessuno è quella corretta! Tu a chi l'hai fatto? Come ne sai, non lo dirò mai! Io lo dico fra poco! Fra 3, 2, 1! Io l'ho fatto a... Vai! Che magnifico! Che magnifico! Posizionando i regali! Fai vedere il tuo fiocco, oddio! Eh, però sei impegnata, va! Iniziamo con i pronostici! No, iniziamo a persona, tipo che ne so! Però mi dovete ricordare! Allora, questo è il tuo! Allora, questo è il mio! Questo è di Vale! Questo è di Sara, Nunzia e Connie! Allora, iniziamo da Martina! Secondo te, a te chi l'ha fatto? Allora, secondo me, io l'ho fatto a... No! A te chi l'ha fatto, secondo te? A me! Chi l'ha fatto? Allora, spero non tu, perché se non mi devo portare questa borsa appresso! Quindi? Sara! Ok! Secondo te? Nunzia! Valentina! Nunzia! Mattina! Nunzia! E poi ripetiamo i nomi! Io devo dire se ha ragione! Ha ragione! Ahhhh! Ha vinto! Che so, come lo sapevi? Vabbè, quindi spostati un attimo, tu hai indovinato! Sì, via! Eh, ma io ho detto... Sì, ma gli abbiamo a fare l'ora per il regalo! Sì, abbiamo il regalo, vai! È la prima che ha indovinato! Delica! Allora, che delica! Dai! Scarta la carta! Scarta la carta! Attenta che c'è anche lo scontino con la cortesia! Mamma mia che signora! Vuoi fare divina? Adoro! C'è anche una catena lunga, aprila! Adoro! Allora, divina! Quando vuoi fare la persona un po' più chic! No, va bene, brava! Eh no, io dovevo dire che me la faccio secondo te è Valentina! Vero! Allora, io ho detto che Meme ha fatto coni! È vero! È vero! È vero! È vero! È vero! Io l'ho capito quel giorno! Noi quattro poi lo dobbiamo ripetere! Aspetta, aspetta! Aspetta, mi siedo, va! Vai! Scarta la carta! Scarta la carta! Scarta la carta! Aspetta che non si capi! Amo, e dai! Aspetta! Io faccio! Vabbè, ha metto anche il libro luminoso! Dai! Adoro! Carpisa! Vedi che sono a scadere il tempo! Della storia! Guarda che prestigio! Nooooo! Vabbè! Facciamo vedere bene! Nooo! Vabbè! Questo è proprio per Jessica! Sì! Il tempo! Hai fatto le colla proprio! Adoro! Oh! Che bello sto colore! E fa vediamo! Divino! Mamma mia! Bellissimo! Grazie! Grazie! Ciao ragazze! Ciao ragazze! Ciao ragazze! Sì 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 sì! Grazie! Ora a chi tocca? Sara che avevi detto? Io ho detto Martina! Ha detto me! Oddio! A me che cazzo me la fa! Vabbè allora tocca a me! Chi aveva detto? Nunzia! Non ho dovuto! Vai ripeti Martina! Cambia! E ma devi cambiare! Non puoi scegliere né Nunzia e né Connie! Giusto? Dai devi dire giusto! Né Nunzia né Connie! Solo le tre! Io ho già capito! Dove sei scoperti a chi lo fa? Una di noi tre! Massimo! Ya! Movi! Jessica! Sara e Valentina! Nananana! Nooo! Nunzia! No! Tu hai scoperto? No! Vai devi glielo un altro nome! Per me l'ha fatto Jessica! No! No! Ma scusate ma a me è rimasto solo uno! Sara! Pure Pupo te li fanno! Devo fare il mollo ora! No! L'ho fatto! Cambia! 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 A per te? Si! No! Tu tu tu! Eh! Per forza! Si! Trego! A me no! O Martina o Sara! Ah! O Martina sonna! E' al meglio che ho detto! No! Ragazza! Ma vedi la scritta! Vedi la scritta! Maro! Aspetta! Devo fare il video! Devo fare il video! Questo ha scritto! Hello! Gira! E vai! Apri! No! Non è bello! Forse si scelte la storia! Ma perché stai di spalle? Perché stai di spalle? Mi sto alzando! Ma sono che ti dimentico! Maro! Ah ma lo volevo! Eh! Divina! Ti piace? E' stato da sul sicuro! Ah ma l'ho detto io era mia sorella che mi serveva uno segno! Poi ho indovinato! Eh ma che è rimasto solo uno! Aspetta! Chi è rimasto a me? Lei ha già provato! Martina ha detto io no quindi Valentina! Lei ha fatto Valentina allora! Ah! Ah! L'unica che mi aveva! Ho fatto pure un pochettino! Aspettate che ci sono tante cose! Ci sono tante cose! Ah ah! Alessio! Ma perché mi piace che le persone perdono tempo a scartare non? Ma l'ho pure duro! Ah ah ah! No! Esatto! E a me finisce! Però questo secondo me lo devi aprire dopo! E allora non ti passi la vostra sola! E allora non ti passi una vostra sola! Non lo farei di linea! No! Vabbè! Minaccia! Non lo vuole! Hai visto? Adoro! E' plump! A che di? No plump! Plump! Ah 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 ah! Sì è la segretà! Aspettate lo dico un tante! Con quelle unghier attivina! Se siete niente sexy, com'è? Ditto a Connie Ma vedi il numero? Ah, però è simile al mio Divino Adoro Manteneteci un'altra cosa Yeah, muoviti Io sono più divino Quindi più tempo che scatto di regalo Apri apri Nooo Nooo Bellissimo, ok I love dolce Marti Vai Vale Scatta la cazza Io subito l'avevo immaginato che era per te Ogni volta che hai i brush Per me Vai Oh 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 Questo è il Duomo di Salerno Vi faccio vedere Oh 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 Entriamo prego andate Allora Una bellissima pizza No Iniziamo alla grande Fai una foto Oh Dividiamola a metà Tutti Tutti Oh Non ciò mi difettate che ti ho dato Ma ci sono una sorta Come sono buonate Voi comunque mi state infetando a me Fare le lezioni con Buon appetito Buon appetito Ma perché non sei messa vicino a me? Siamo tutta vicino a te Ragazzi abbiamo appena finito di mangiare Mamma mia mi sono proprio gonfiata Adesso mangio un po' di cose Perché poi comunque il fritto mi gonfia Niente adesso ci facciamo un giretto Che dobbiamo comprare altri regalini E poi prendo il seno E me ne vado Anche perché oggi è il contorno di mio padre E quindi stiamo un po' insieme Quando ci sono andata a lavoro No bellissimo 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 che sta il berello Sapesso allora Dobbiamo mandare un attimo da Yves Rocher Guarda che bellino Un attimo da Yves Rocher Che c'è una promozione Vediamo un po' Se posso sfruttarla Poi adoro Yves Rocher Vi saluto Ciao Buon Natale se non ci vediamo Buon Natale Ricca Ciao 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 A presto Ciao Baci Ciao 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 Ciao